Una boccata di ossigeno per le nostre imprese. Commentano così il presidente del VCO Arturo Lincio e il consigliere delegato al bilancio Gian Domenico Albertella la notizia che la provincia ha ottenuto un'anticipazione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti che permetterà di liquidare entro settembre fatture per complessivi 3,4 milioni di euro. L'auspicio di Lincio Albertella è che per molte imprese, fornitori, artigiani e professionisti possa contribuire a superare il grave momento di difficoltà economica causata dal Covid. Obiettivo dunque sostenere l'economia locale facendo fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturate alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalte e obbligazioni per prestazioni professionali e quindi contribuire a dare immediata liquidità alle imprese senza intaccare quella necessaria all'ente per ripianare il debito di 23 milioni di euro. Così la provincia ha richiesto e ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità per complessivi 3,4 milioni di euro. Lo scorso 5 luglio, continuano il Presidente e il consigliere delegato al bilancio, abbiamo presentato la richiesta di un'anticipazione di liquidità ottenendo l'intero importo richiesto. Nei giorni scorsi si è concluso l'iter di assegnazione con la sottoscrizione del contratto. Ora attendiamo l'erogazione, il cui termine ultimo è previsto per il 24 settembre, ma confidiamo che la stessa avvenga entro il mese di agosto, cosicché i nostri uffici daranno corso al pagamento di tutte le 249 fatture giacenti con data ultima 31-12-2019 e riferite agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. L'anticipazione sarà restituita dall'ente in rate costanti annuali di circa 141 mila euro nel periodo di ammortamento di 28 anni a partire dal 2021. Sulla questione la soddisfazione anche del coordinatore provinciale di Forza Italia, Massimo Manzini, che afferma che continua dunque l'impegno dell'amministrazione provinciale di centrodestra nel risanamento dell'ente.